Abbiamo presentato oggi il libro che è una guida per le 14 aree protette della provincia di Grosseto, utile soprattutto per i turisti e per gli studenti che la vorranno leggere e che vorranno andare a vedere anche ciò che non è mare ma che è la nostra storia e il nostro ambiente. Abbiamo consegnato anche diplomi per coloro che hanno partecipato e hanno superato il corso di build watching, che hanno fatto anche sette uscite nelle aree protette e che ad oggi quindi sanno riconoscere almeno gli animali che vivono nelle nostre aree protette. È una giornata importante, è stato un successo, erano presenti molte guide, molti studiosi e questo perché vogliamo sempre far vedere quello che è il nostro ambiente, la nostra storia e soprattutto le radici che abbiamo.